Due ore di sciopero, proclamate per oggi, non serviranno a riportare in vita Roberto Caporale, ma contribuiranno certamente a sottolineare la necessità, sempre più impellente, di aumentare controlli e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dopo l'ennesima morte in fabbrica, la prima del 2024 in Abruzzo, quella del 47enne di Lanciano, Roberto Caporale, operaio precario nel settore dell'automotive, deceduto davanti ai colleghi impotenti dopo essere stato colpito da un tubo di metallo schizzato dalla pressa con la quale lavorava la Proma di Atessa, i sindacati tornano a ribadire la priorità di sicurezza e salute su tutti i luoghi di lavoro, partendo dal potenziamento dell'attività ispettiva. Franco Spina, segretario regionale della CGL per Abruzzo e Molise, quello di ieri è l'ennesimo incidente sul lavoro che apre un 2024, ma che in realtà viene da un 2023 che ha visto l'Abruzzo in cima alla classifica nazionale per numero di incidenti mortali sul lavoro. Sì, un 2023 molto brutto che però si aggancia anche al 2022 è altrettanto brutto, quindi noi veniamo da anni di situazioni di difficoltà subito dopo la pandemia. L'anno scorso sono state 1480 morti in Italia e 32 in Abruzzo. Innanzitutto esprimiamo anche la solidarietà, la vicinanza, la famiglia del ragazzo che è morto ieri. C'è una situazione di complessità rispetto alle morti sul lavoro che deve essere affrontata in maniera seria. L'OSB è tornata a chiedere che si introduca il reato di omicidio sul lavoro. Potrebbe essere un deterrente, una soluzione? Ma ci sono tanti temi che bisogna mettere insieme. Sicuramente questo è uno di quelli, la valutazione sul fatto che ci sia ormai, in maniera anche scientemente, fatta a volte una modifica rispetto ai processi produttivi, e alla velocizzazione dei processi produttivi, quindi gli infortuni sono mortali anche a volte calcolati. Oltre a quello c'è la necessità di fare immediatamente interventi e tra questi sicuramente la messa in sicurezza attraverso gli investimenti su macchinari, sulla linea produttiva, sul fatto che bisogna potenziare i servizi ispettivi. Negli ultimi dieci anni sono stati tagliati oltre 10.000 ispettori. E' chiaro che le imprese non hanno più quel tipo di sistema di controllo, quindi possono ritenere la sicurezza un costo e non un investimento per la salute e la tutela dei lavoratori. Va tolto il lavoro precario. Lavoratori che lavorano a chiamata per uno o due giorni vanno in un'azienda, poi cambiano e vanno presso un'altra azienda. Ma che formazione e che tipo di tutela rispetto alla conoscenza dei processi produttivi e quindi anche della salute e sicurezza possono avere? Quindi vanno stabilizzati i lavoratori, che è la forma più corretta anche per fargli fare una formazione continua che richiediamo. Anche perché quelle aziende che si comportano bene devono essere premiate e quelle che non si comportano bene devono essere esclusi dai processi produttivi. Noi oggi parliamo delle morti sul lavoro, ma poi c'è anche l'altro dato, quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie anche professionali. Assolutamente sì. In Abruzzo ad esempio ci sono stati ben 8.000 infortuni, 4.000 malattie professionali, le situazioni di cui nessuno parla perché gli infortuni, anche quelli gravi, poi portano conseguenze per la vita. Le malattie professionali, quelle gravi, portano al decesso dopo anni. Quindi parliamo di un sistema che poi viene collocato in capo praticamente allo Stato, se ne fa carico lo Stato, ma bisogna fare in modo che i lavoratori, quando escano, ritornano a casa in maniera tranquilla e anche potendosi godere la propria salute.